Anche quest'anno abbiamo rinnovato la tradizione proponendo il dolce caratteristico del Natale, il panettone artigianale. L'intero processo di produzione viene realizzato nel nostro laboratorio da personale altamente specializzato dopo un'attente e accurata selezione delle materie prime. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Oltre al tradizionale con glassa di zucchero, uvetta e mandorle, quest'anno abbiamo proposto una novità, il panettone al busto di ananas e cocco che conferisce al prodotto una particolare ed esotica delicatezza. Grazie per la visione! Il nostro panettone è proposto una particolare confezione regalo che dà un valore aggiunto al prodotto e lo rende un appetitoso regalo natalice. Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!